La delegazione FAI di Brindisi, la delegazione del Fondo Ambiente Italiano, presenta i risultati del censimento dei luoghi del cuore, giunto alla ottava edizione. Il censimento si è svolto nel 2016 da maggio a novembre ed è stata l'occasione per tante comunità italiane di celebrare e di portare l'attenzione ai riflettori su alcuni beni a cui le comunità sono praticamente affezionate che magari possono versare in uno stato di abbandono e di degrado. Dobbiamo dire con grande soddisfazione che i risultati sono molto interessanti. Il tempietto di San Miserino a San Donaci ha racimolato 3.770 voti, ma soprattutto il dato più interessante è che il primo bene in Italia ad essere stato per numero di voti e essere stato votato nelle filiali dell'agenzia di Intesa San Paolo. E questo significa un contributo certo di 5.000 euro a fronte naturalmente della presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione. C'è anche la chiesa della Madonna della Grotta a Ceglia che ha preso circa 1.800 voti, la chiesa della Madonna dei Grani a Francavilla che ha superato di poco, di un'ottantina di voti, di 1.500. Questi beni ora un po' più conosciuti con il sostegno dei comitati, con il sostegno della delegazione nostra del provinciale del FAI e con l'interessamento degli enti comunali, degli enti proprietari che può essere il comune, la provincia, la regione, possono presentare una candidatura per un finanziamento da marzo fino a giugno e naturalmente il contributo non è un contributo che cambia le sorti di un luogo, però impone a tutti i protagonisti di stare insieme, cioè di lavorare insieme per finalizzare una proposta progettuale tesa naturalmente alla tutela e valorizzazione del bene e quindi naturalmente si spera che con l'aiuto degli enti pubblici, con la provincia, regione e comune, il comitato che è comunque un comitato spontaneo ma fino adesso ha svolto un ottimo lavoro e la delegazione si riesca a candidare un progetto che anche se non dovesse essere finanziato dal FAI potrà essere naturalmente finanziato ad altri progetti, ad altri bandi, ad altri finanziamenti regionali europei che siano.